Raga, è bella la vita dello youtuber, eh? Però sono sempre di fretta Guido, nel frattempo qui, sto caricando un video su YouTube Perché questo weekend c'è il Paranze Bici Festival E noi dobbiamo fare lo show Cioè, tra l'altro gli altri dovranno fare lo show Io sono ancora infortunato O succede un miracolo O io guardo e va a spagliare Il viaggio chiaramente comprende Ivido pivido No, fra le mani no, sui minori Dove è lo Spallen? Spallen, spallato e... Chiaramente come al solito siamo pienissimi di bici E anche a sto giro purtroppo il mio furgone è inutile Perché solo tre posti E noi siamo in quattro Potete sapere che molto spesso mi dimentico Caricare i bici In questo caso il computer Oppure di solito anche la talaria E la talaria, gran cazzi perché la talaria... Ti devi mettere in promemorial Però in realtà abbiamo la soluzione per questo video EcoFlow ci ha fornito questa power station portatile Delta 2 Ed è perfetta proprio per l'utilizzo in campeggio Pure per ricaricare anche gli elettrodomestici a casa Senza utilizzare la corrente e risparmiare Vabbè, purtroppo... Purtroppo Ivo mi ha già capotato la bici Però vi assicuro Prima ho controllato ed è circa il 60-70% E siccome domani mattina Noi dobbiamo fare un giro nei bike In hotel è dura che te lo facciano caricare Soprattutto in Liguria Quindi appunto è il momento giusto per testare questa batteria portatile Quindi adesso riempiamo completamente il furgone d'Ivo di bici E forse poi possiamo partire C'è casino ma ci ha salvato la vita Andiamo in discarico Piccola sosta in autogrill L'ora e mezza che siamo partiti Allora quanto è? E siccome noi siamo real vi facciamo veramente vedere Che è tutto attaccato Bici Batteria della GoPro Batteria della telecamera Sono veramente scariche Computer 56% Oh no sabbia sui piedi Già questa cosa Mi fa sentire decisamente in vacanza Il convento sul bagno va per Ivo La gara è andata bene Ah ci sta Comunque la Liguria Sa poco di chilling Ottobre ancora l'acqua Temperatura perfetta Tiriamo le somme su questa EcoFlow Delta 2 Siamo partite alle 1 e mezza Adesso sono le 6 e mezza di sera E dopo circa un'ora e mezza di viaggio Avevo già completamente cariche La batteria della GoPro La batteria della bici elettrica E il computer al 100% E la batteria è ancora al 56% E mi dice che vabbè Chiaramente senza attaccato niente Ci sono ancora 79 ore di autonomia Lei è una power station portatile Di questa categoria La più piccola e potente sul mercato Cosa fighissima E che voi direte Si trovo poi magari Il test mette Nura caricami Raga dallo 0 all'80% In 50 minuti E tra l'altro Piccola curiosità Utilizza le stesse Identiche batterie Di Tesla All'interno Ha praticamente Qualsiasi tipo di porta Dall'altra parte 4 pesasciuco La presa Dell'accendisigari Della macchina E poi varie presi di ricarica Direttamente per lei Siccome nel video Vi farò vedere anche Come funzionano i pannelli solari Per ora iniziate a guardarla C'è il link in descrizione Rapido check Della location Dello show adesso Allora dovete sapere Che il buon Luis Con CP Gang E con Varazze Hanno organizzato questo show E anni fa Abbiamo fatto Diverse volte lo show qua Chiamava Molo del Dirt E avevano costruito Una struttura Decisamente più grossa Più imponente Cioè c'era un rollino enorme qui Con già la discesa Del molo C'era un saltone Mega grosso Mi ricordo che alla fine Erano venuti 4-5 rider internazionali E c'era stato Un livello di spegnimento Forse troppo alto Quell'anno lì A sto giro Hanno riorganizzato tutto Chiaramente Il setup è un pochino più comodo Perché non c'è terra tra le balle Però è tutto molto lo budget Perché ha chiamato noi Invece grazie all'arrivo Alla fine di tutti Sti airbag landing Che li porti qua In un secondo Li appoggi E veramente Senza sporcare niente E in 5 minuti Se tappi tutto Realizzare lo show È diventato Meno costoso E decisamente più facile Burocraticamente Poi a Luca piace tanto Proprio perché I bambini di merda Girano soltanto sul bag Mi chiamo Sasso Guarda lì Che cosa russa il bastardo Ah lì Luca Sasso Fa molto importante A terra Da 3'6 Sul bordino Rimbalzi E qui di costole Eventuali Oh shit La scimmia Letteralmente In 3 minuti L'airbag è gonfio Nel frattempo È calata la sera Il setup è pronto Per lo show Cavolo raga A vedere tutti questi ragazzi Che girano Mi viene proprio voglia Purtroppo Devo ancora aspettare Vorrebbe il miracolo Di San Gennaro Ma lo volete un miracolo Non ho sentito bene La mia volta Non mi sento L'uccellino mi ha detto Che se voi fate tanto casino Toto potrebbe guarire di colpo Non ho sentito Non ho fatto tanto casino Toto Non ho sentito Non ho sentito Non ho sentito E' il miracolo! Aia, c'è Edo che deve mandare double! E' il spegnimento far double su tutto falso, è proprio peso! Mamma mia che fatica che stiamo facendo, noi stamattina stiamo proprio, senti che fiatone! Aspetta che faccio il fiatone, sai che cosa? E' che me l'ha ricaricata troppo l'Ecoflow la batteria e dopo il miracolo dello show di ieri sera ormai posso fare qualsiasi cosa, infatti stamattina girettino in e-bike chiaramente, cioè allora adesso devo vedere la differenza, cioè io dico che stiamo proprio cazzeggiando in salita, adesso fermati un attimo a questo tornante, aspetta loro un attimo, fammi sentire come stanno cazzeggiando anche loro! Quanto siete rilassati la mano a 10? 92 batti! Non ho capito perché non mettete in turbo? Si è rotto il motore! Ah si è rotto? Ok! Adesso fa il figo così, adesso tra poco voglio vedere, voglio vedere quando inizia la salita vera! Curva e piega, curva e piega, vai vai vai! Madonna eh questa cazzone pantani che scatta Su a 45 all'ora ragazzi con le black Ragazzi sapete perché la mia bellissima bici è così carica Io vi ho detto che la delta 2 è figa perché è utilizzata energia pulita Oltre alla batteria potete acquistare i pannelli solari Quella batteria lì con i pannelli solari è la svolta della vita Non dovete più utilizzare veramente la corrente Stamattina prima di venire l'ho attaccata la prima volta Tra l'altro il case dei pannelli solari funziona da piedistallo da supporto per i pannelli stessi La cosa è che sono veramente curioso in un giretto di bike come facciamo oggi Quanto ha caricato? Tenete conto che la batteria era al 56% Madonna però che paesaggio peccato che c'è foschia Io è il primo trail che faccio da quando mi son fatto male Oddio No proprio subito a guidare un gruppo Madonna se mi vedesse l'ortopedico in questo momento sarebbe fiero di me Buono però attenzione Faccio il primo trail da bici che faccio nell'arco di 70 anni Madonna Alla faccia Ducasse no Sempre comunque turbo Figo questo Occio 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 Occhio fermi Aspetta che vado ad aiutarlo Aspetta Invalido per invalido Grazie Occhio ti sei girato Grazie Big jump Occhio è morto ancora Occhio è morto la seconda volta Sei vivo Occhio è morto Ah ok Bisogna anche controllarsi Ricordati di frenare qua in mezzo un pelo Occhio è morto la seconda volta Occhio è morto la seconda volta il giro si è concluso poi è successa anche la cosa più inaspettata stavamo andando a prendere il gelato e ci si palesa davanti raga questo è un ergumeno lo guardo un attimo e dico ma quello lì è quello di può accompagnare solo glielo chiediamo raga era lui ma tu sai accompagnare solo? può accompagnare solo sai te? grande dopo questa perla raga si conclude sto weekend a varazze ci vediamo al prossimo video il mio ritorno in bici non pensavo di farlo in questo modo però documenterò di sicuro il ritorno graduale pian piano perché questo ritorno come sapete è importante anno prossimo abbiamo dei belli obiettivi ci vediamo al prossimo video bella ciao 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 ciao